Eri tu, adesso il medico che ti dice, come ti senti bene, sei sicuro? Oggi hanno bisogno di malati nuovi per emettere farmaci, guardate che sono sempre gli stessi. Dalla storia non abbiamo capito niente, è inutile la memoria, l'olocausto, non abbiamo capito niente, la storia non ci insegna mai niente. Siamo sempre sull'orlo della barbarie. Quando ho visto Berlusconi piangere ad Auschwitz dicendo voglio portare qui il prossimo anno i miei figli, mi si è accaponata la pelle perché ho detto i tuoi figli, Berlusconi, dovresti portarli a tre chilometri da Auschwitz, dove c'è Auschwitz 2. Non è una battuta, c'è Auschwitz 2, un campo di concentramento dove sono stati fatti fuori 30.000 ebrei stati fuori da lavoro, ma è un campo di concentramento non fatto dai nazisti. L'ha fatto un SPA, un'azienda, e ci ha fatto morire 30.000 ebrei di fatica per farli lavorare gratis. Questa azienda si chiamava IG Farben, quella che fece lo Zyklon B. Una tonnellata di Zyklon B serviva a far morire un milione di persone. Ne ha fatto 500 tonnellate, l'ha prodotto fino al 1945 per far fuori 500 milioni di persone. E quando l'amministratore delegato della IG Farben al processo di Nuremberg è stato interrogato e il magistrato gli ha chiesto lei dovrà rendere conto, la sua coscienza dovrà rendere conto alla storia, lui si è alzato e ha detto la mia coscienza può rendere conto solo ai miei azionisti. La IG Farben, signori la IG Farben non è scomparsa, ha solo cambiato nome, sono sempre gli stessi. Oggi si chiama Bayer e lo slogan della Bayer oggi è meno dolore a questo mondo. Sono sempre gli stessi e la Bayer e le Big Pharma, che sono cinque dei grandi multinazionali del farmaco, a marzo del 2004, il primo marzo, hanno decretato senza che noi sapessimo nulla, hanno fatto un'operazione disgustosa perché sono dei serial killer, hanno bisogno di malati, chi sono i malati nuovi di cui hanno bisogno? Sono i sani che non sanno di esserlo malati, sono i malati immaginari, quelli cronici che ti porterai avanti tutta la vita, sono i sani. E nel 2004 hanno abbassato le soglie della patologia delle tre malattie più sviluppate da noi, il colesterolo, il diabete e l'ipertensione. Abbassando le patologie hanno aumentato di sani che erano sani a marzo, ma il 2 di aprile erano in coma. Tu ridi. Allora abbassando le patologie hanno formato 200 milioni di gente che era sana e che adesso è malata e si deve curare e hanno bisogno di prevenzione. In televisione il portatore nano di democrazia era ieri in televisione a dare i miliardi nella prevenzione. Noi diamo i miliardi nella prevenzione. I 17 settimanali scientifici del mondo, i direttori hanno fatto una lettera pubblicata in tutto il mondo, tranne che in Italia, siamo sempre in leggera controtendenza, dicono signori non date più soldi alla ricerca, non date più soldi alla ricerca perché il ricercatore puro non c'è più, sono tutti sotto contratto nelle multinazionali, nelle università non esce più un cazzo che le case farmaceutiche non vogliono. Bene, bene. Volete che proseguo? Siamo in diretta con la televisione svizzera. Io devo tutto a un direttore sanitario della sanità svizzera, si chiama Domenighetti, un uomo che va in giro a dire queste cose, a informare la gente sulla prevenzione. Berlusconi dà 10 miliardi di lire per la prevenzione per il tumore al pancreas. Questo è l'esempio di come funziona la prevenzione, stai molto attento. Io non ti dico di non farlo l'esame per il tumore al pancreas, però devi capire, devi conoscere che cos'è il tumore al pancreas. Poi ti fai fare tutti gli esami che vuoi, la conoscenza. Allora il tumore al pancreas è un tumore rarissimo, 11 casi su 100.000, un tasso di mortalità nei 5 anni del 100% e non c'è cura. Che cazzo me lo dici prima? Abbiamo gli oncologi sul palco. Voi mi potete smentire signori. Allora Walsh, 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 il professor Walsh, quello che ha creato l'esame del PSA alla prostata. Tutti dopo i 50 anni ti dicono fatti un esamino alla prostata di sicurezza di prevenzione. Bene, Walsh che ha inventato l'esame del PSA è lui che dice, state attenti, non fatelo perché non è attendibile. Non è attendibile, vuol dire che il PSA sbaglia del 50%, non distingue una prostata dal tumore a una prostata ingrossata. Non distingue una prostata ingrossata, è normale dopo i 50 anni. giri un po', fammi sentire. È leggermente grossa. Ti pisci un po' addosso, dimmi la verità. Volete che continui? Sarò una cosa perfida che vi arriva adesso. Continuo? Bene, allora se non distingue una prostata dal tumore da una prostata ingrossata e ti fai fare l'esame preventivo e diventa positivo, cosa fai? Ti fanno il prelievo, la biopsia. E non è detto che ti fanno 18 prelievi, 9 davanti e 9 dietro, ci sono i primari là. E non è detto che ti prendono proprio il pezzo di prostata tumorale se hai il tumore. Possono aver prendito il sottosano. Quindi non hai mai la sicurezza. Queste cose io voglio conoscere. Gli svizzeri che sono precisi hanno preso cadaveri di persone di 90 anni morte di vecchiaia, gli hanno fatto l'autopsia in Svizzera. Sai che vogliono andare a vedere tutto, gli svizzeri? Hanno scoperto il 100% dei morti, tutti avevano un tumore alla tiroide, ma non erano morti per il tumore alla tiroide. Il 95% avevano il tumore alla prostata, 950, ma non erano morti col tumore alla prostata. Erano arrivati a 90 anni ed erano morti di vecchiaia. Si può anche convivere con una malattia senza accorgertene. Allora, prima di farvi fare screening, esami, diagnosi precoci, informatevi sulle cose, perché sono pericolosi. Non sono i primari, ormai diventati non sono neanche loro. I primari, che devono passare il tempo nelle scartofie, nei documenti, perché hanno un cazzo di manager sopra che se hanno un letto vuoto li pianta un casino ai primari. Gli ospedali sono diventati così, ti fanno un'operazione al cuore, una valvola nel cuore, gli ospedali ti devono dimettere dopo tre giorni, perché sennò costi di più all'ospedale. Dopo tre giorni ti mandano a casa, dicono, metto una mano qua, spinga così e vado a casa. Non levi la mano. E nei centri di riabilitazione invece ti tengono dentro, perché prendono mezzo milione al giorno dalla regione. Quindi i sani vengono tenuti dentro, i malati vengono dimersi. Questa è la nostra situazione. Abbiamo le malattie, la finta malattia. il British Medical Journal, ci sono i primari lì, i British, pubblicano l'elenco delle no malattie, dicendo, state attenti se avete una cosa così. Non è una malattia, non fatevi screening, non fatevi diagnosi precoci, non è una malattia. La prima, wellness, essere pelati, non è una malattia. È una condizione da sfigati, ma non è una malattia. L'intestino irritabile non è una malattia. L'osteoporosi, lo dice il British Medical Journal, il quarto giornale scientifico del mondo, l'osteoporosi non è una malattia. La menopausa non è una malattia. La cellulite non è una malattia. La deficienza di testosterone non è una malattia. La vecchiaia non è una malattia. Non è una malattia la vecchiaia. Ogni tanto bisogna invecchiare e ogni tanto bisogna anche morire, cazzo. E non vuole più morire nessuno, porca butta. La gravidanza non è una malattia. La gravidanza, il 30% dei parti vengono fatti con un'operazione che si chiama taglio cesareo, perché si sono inventati ginecologi. Il ginecologo, una volta c'era l'ostetrica, te devi partorire. L'ostetrica ti faceva partorire tenendo conto della legge di gravità. Ti metteva così, il bambino scendeva per legge di gravità. Il ginecologo ha detto che cazzo è troppo semplice, li mettiamo con le gambe in su e tiriamo il bambino dal basso verso l'alto. La disfunzione erettile non è una malattia. Te che fai tutto sto casino qua. Non è una malattia la disfunzione erettile. La fobia sociale, cronica, la sindrome, quelli che sono sempre stanchi, la malattia stagionale, quelli che sentono le stagioni. È la vita, è la vita. L'ansietà. 12 milioni di persone prendono una pillola per dormire. 14 milioni di persone prendono una pillola per cagare. Non caghiamo più, somatizziamo tutto qui. Facciamo degli stronzi di travertino. L'ansia del pene piccolo. Ma che cazzo di ansia? Prendi uno con la fighetta corta, che cazzo prego. Il govito del tennista, la sindrome del ristorante cinese, sono gli involtini primavera. Bene, bene, io ho finito.